Poesia di Al-Math Oshiar, voce di Gulala e Stefania. Una scrittura di disperazione. Una nazione in cui gli alfabeti delle nostre scuole compongono scritti di disperazione e contano i giorni in attesa della nostra scomparsa. C'è a wazi kishuma? Quale sinfonia pessimista è questa? Finché i suoni degli spari sono le ninnen e nanne dei nostri bambini, come possiamo avere pace quando tutti i nostri cuori sono al Rojawa? Quando tutti i nostri cuori sono al Rojawa?